Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Keyland Rocket GTX, uno scarpone che vi dico subito lo possiamo definire abbastanza a tutto fare, ma di cui adesso vediamo insieme i pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa per questi Rocket. Per quanto riguarda la suola troviamo una Vibram Curcuma, intersuola a due densità e nello specifico per il modello da uomo stiamo su 700 grammi per la taglia 42, mentre per il modello da donna siamo sui 630 grammi. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Partiamo dalla suola, troviamo una suola in Vibram Curcuma come dicevamo anche prima, una suola dalle ottime prestazioni, veramente dall'ottimo grip sia su roccia asciutta sia su roccia bagnata. Torna poi sempre utile la piccola climbing zone che troviamo nella parte anteriore dello scarpone che davvero ci dà un'ottima precisione in punta. naturalmente poi anche su quello che può essere sentiero battuto, single track, sbriciolino si comporta veramente molto bene quindi approvato. Sì c'è da dire che questa suola ha veramente un ottimo grip su roccia e questo è dato soprattutto dalla grande superficie di contatto che ha la suola nel momento in cui andiamo a camminare. Questo però ha anche un piccolo neo se vogliamo andare a trovare proprio il pelo nell'uovo è che utilizzandola su quello che può essere magari un po' di fango fa fatica il fango ad andarsi a liberare dalla tassellatura e quindi si scivola un pochino. Diciamo che sicuramente questa non è la suola ideale per andare sul fango quanto però come diceva Sara per tutto quello che è la roccia veramente un grip fenomenale. Passiamo a parlare invece di quello che è l'intersuola come vi anticipavo un'intersuola a due densità. Un'intersuola che per quanto riguarda l'amortizzazione secondo me si poteva fare un pelino meglio. Nello specifico andando a utilizzare questa scarpone per 10-12 ore di escursione dopo davvero tante ore si inizia a sentire un po' di dolore sotto la pianta del piede quindi se sull'avampia ci fosse stato qualche millimetro in più di parte amortizzante secondo me sarebbe stato anche meglio. È da dire che se invece lo utilizziamo su delle escursioni semplici come possono essere quelle da 6-7 ore non avremo nessun problema. È proprio quando andiamo veramente tanto alla lunga che qualche millimetro in più sarebbe tornato comodo. Invece per quanto riguarda la parte di rigidità troviamo un'intersuola semirigido. Naturalmente con il suo pro e il suo incontro ovvero il pro naturalmente che abbiamo una camminata abbastanza naturale e che ci dà comunque un ottimo sostegno. Il contro è che naturalmente nel momento in cui andremo a ramponarlo perché naturalmente anche l'inserto in TPU nella parte posteriore per essere ramponato non potremo farci nulla di tecnico potremmo farci semplicemente delle camminate su ghiaccio. Sì noi l'abbiamo utilizzata per fare diverse ferrate anche abbastanza impegnative per intenderci la gamma 2 del resegone e devo dire che questa rigidità ci ha aiutato tantissimo nel momento in cui dovevamo fare leva proprio sulla punta per spostarci in sicurezza e con precisione. Passando alla tomaia iniziamo dal puntale un puntale ovviamente molto rigido molto robusto resistente così che non ci possiamo fare male nel momento in cui andiamo a colpire la roccia classico di questi tipi di scarpone. Per quanto riguarda invece la tomaia in sé questa è estremamente resistente sia nella parte più superiore diciamo in tessuto sia sulla parte un po' inferiore. Troviamo infatti tutto in una fascione in gomma che conferisce allo scarpone un'ottima resistenza e per noi un'ottima protezione da tutti quelli che possono essere impatti con la roccia. Sì è davvero uno scarpone che dal punto di vista dei materiali è veramente ottimo. Per quanto riguarda invece la traspirabilità già davvero stupito nonostante abbia anche una fodera in Goretex che vabbè quella ci aiuta nel caso in cui dovessimo guadare qualche torrente vi assicuro che utilizzato a delle temperature anche elevate fa sudare poco davvero poco un'ottima traspirabilità. Questo però ha un contro che la termicità è abbastanza scarsa. Per intenderci questo scarpone lo si potrebbe utilizzare secondo me fino a 5 gradi ecco già lo zero lo vedo un po' estremo. Secondo me è uno scarpone prettamente estivo tre stagioni sull'invernale non lo utilizzerei almeno che non faccia uno di quegli inverni strani degli ultimi anni in cui ci sono 15 gradi anche d'inverno. Passando alla zona del tallone allora come vi dicevo innanzitutto è semiramponabile nella parte inferiore ce l'attacca in TPU. Il tallone in sé poi è bello strutturato nella parte inferiore si destruttura pian piano che si sale. Ha un'imbottitura ottima davvero utilizzato anche camminando col piede lateralmente non abbiamo nessun tipo di problema e ha comunque un ottimo sostegno sulla caviglia momento in cui andiamo a affrontare anche dei terreni particolarmente tecnici. Infine parlando di allacciatura questa è diciamo la classica di tanti scarponi di questo tipo ma ci è piaciuto molto il fatto che si possa andare a stringere molto bene sin dalla punta quindi a personalizzare molto e a regolare veramente con precisione l'intera allacciatura. La linguetta molto bene anche lei resta ferma durante le escursioni e isola anche molto bene dai lacci quindi non sentiamo nessuna pressione. È molto confortevole. Per quanto riguarda la soletta questa classica di Kayland non ci siamo trovati bene. Volendo potreste cambiarla ma come detto non ci siamo trovati molto bene quindi noi andremo tranquillamente avanti a utilizzare quella data in dotazione. A livello di calzata devo dire che è uno scarponi che comunque ha un po' di spazio sull'avampiede tendenzialmente se non avete un piede eccessivamente grosso sull'avampiede potete prendere il classico numero che prendete di solito senza dover pensare a prendere mezzo numero in più quindi una calzata diciamo un pochino ampia. Arriviamo allora a capire per chi è pensato questo scarpone. Questo scarpone va benissimo dai principianti agli utenti più esperti, dai principianti che hanno bisogno di un sostegno e di tanta protezione ma anche per gli utenti più esperti che cercano un po' uno scarpone tuttofare che sia affidabile e preciso. Per quanto riguarda invece dove si può usare possiamo dire che è uno scarpone abbastanza tuttofare. Va bene dalla classica escursione semplice in cui non troviamo nulla di tecnico a un trekking impegnativo magari ad alta quota dove troviamo tanto sfasciume. Perfetto per delle vie ferrate grazie alla sua semirigidità e può andarci bene anche per fare dei 4000 molto semplici. Per intenderci se voleste ramponarlo potreste farci una capanna margherita, dei brightorn, cose comunque molto semplici dove il rampone non dovrebbe andare a lavorare di punta. Generalizzando possiamo dire una classica camminata su ghiacciaio. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi Keyland Rocket. Prezzo vengono venduti a 280 euro sul sito ufficiale di Keyland, online si trova su 220-230. Li consigliamo? Assolutamente sì. Sì perché secondo me è uno scarpone che vale tutti i soldi che si andrebbero a spendere per acquistarlo. Uno scarpone che vi durerà negli anni, è uno scarpone dagli ottimi materiali e come vi dicevamo uno scarpone è tutto fare. Cioè davvero uno scarpone che potreste indossare da marzo a ottobre praticamente per tutte le escursioni. E detto ciò ragazzi, noi non abbiamo spero di essere stati esaurenti e esaustivi anche per questa recensione. Vi ringraziamo per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!